Capitolo 20 Coriolanus strinse le mani a pugno, incerto sulle intenzioni dei rettili. Quelli nella vasca, esposti all'odore che lui aveva lasciato sulle pagine del progetto, lo avevano completamente ignorato. Questi invece sembravano attratti da Lucy Gray come da una calamita. Poteva essere l'ambiente a fare la differenza, gettati all'improvviso dallo stretto spazio caldo della loro teca, nell'ampia arena scoperta, cercavano forse di trovare la ragazza perché il suo era l'unico odore che conoscevano. Gravitavano intorno a lei per rifugiarsi nella sicurezza della sua gonna. Lucy Gray non sapeva nulla di quanto era successo, perché quel giorno allo zoo, quando Coriolanus aveva pensato di raccontarle di clemenze e dei serpenti, la situazione che lei stava vivendo gli era sembrata talmente peggiore della sua che aveva taciuto sull'argomento. Ma anche se glielo avesse detto, sarebbe stato un autentico atto di fede nelle sue capacità immaginare che avesse trovato un modo per sfruttare i serpenti nei giochi. Cos'era, secondo lei, che li teneva a bada? Doveva essere la sua voce. Aveva mai cantato ai serpenti a casa? Quel serpente era un mio grande amico, aveva detto alla bambina dello zoo. Forse aveva fatto amicizia con un bel po' di rettili nel distretto 12. Forse pensava che, se avesse smesso di cantare, l'avrebbero uccisa. Forse quello era il suo canto del cigno. Non avrebbe mai voluto uscire di scena senza il gran finale. Avrebbe preferito morire sul palcoscenico, sotto il riflettore più luminoso che fosse riuscita a trovare. Quando Lucy Gray iniziò a intonare le parole, la sua voce era sommessa ma chiara. «Tu vai verso il cielo, il buon vecchio al di là, ma io infilo un piede nella porta, perché prima di poter volare ho delle cose da sistemare, proprio qui, nel buon vecchio al di qua». Una vecchia canzone, pensò Coriolanus, che parlava dell'al di là, un po' come quando Sejanus spargeva le sue briciole di pane, ma aveva anche quel verso buffo sull'al di qua. Doveva indicare il presente, qui, ora, mentre era ancora viva. «Ti raggiungerò quando avrò finito la mia canzone, quando avrò congedato i musicisti, quando avrò giocato le mie carte, quando avrò pagato i miei debiti, quando non avrò più rimpianti. Proprio qui, nel buon vecchio al di qua, quando niente più rimasto sarà». Gli strateghi passarono a un'inquadratura più larga, che a Coriolanus fece venir voglia di urlare di disappunto perché non ne capì il motivo. Tutti i serpenti nell'arena sembravano essere stati stregati da quel canto di sirena e convergevano verso di lei. Anche quelli che assediavano Tesli, una preda già sicura, avevano abbandonato il loro obiettivo e si dirigevano verso Lucy Gray. Ancora tremante per lo shock, Tesli si lasciò scivolare incerta al suolo e si avvicinò zoppicando a una rete metallica che copriva una parte della barricata. Si arrampicò a fatica fino a un'altezza di sicurezza mentre la canzone continuava. «Ti raggiungerò quando avrò svuotato il bicchiere, quando avrò stancato gli amici, quando avrò consumato la mia candela, quando avrò pianto tutte le mie lacrime, quando avrò sconfitto le mie paure. Proprio qui, nel buon vecchio al di qua, quando niente più rimasto sarà». La telecamera tornò a proporre un primo piano di Lucy Gray. Coriolanus aveva la sensazione che il pubblico al quale di solito si rivolgeva a lei fosse composto da gente piena d'alcol fino agli occhi. Nei giorni precedenti l'intervista aveva ascoltato molte canzoni che richiamavano alla mente gruppi di ubriachi impegnati ad agitare bicchieri di latta col mi di gin in qualche bettola. Ma forse gli alcolici non erano fondamentali, perché quando diede una rapida occhiata alla sala notò che parecchie persone nella Heavensby Hall avevano cominciato a ondeggiare al ritmo della melodia. La voce di Lucy Gray aumentò di volume, riecheggiando nell'arena. «Ti porterò notizie quando avrò smesso di ballare, quando il mio corpo cederà, quando la mia barca si arenerà, quando avrò tirato le somme e sarò al tappeto, proprio qui, nel buon vecchio al di qua, quando niente più rimasto sarà. L'ultima nota rimase sospesa nell'aria, mentre l'intero pubblico tratteneva il fiato. I serpenti attesero che si spegnesse, e poi, o Coriolanus lo stava immaginando, cominciarono a muoversi. Lucy Gray rispose canticchiando dolcemente a bocca chiusa, come a un bambino irrequieto. Gli spettatori si rilassarono in silenzio, e i serpenti si rilassarono intorno a lei. Lucky guardava, stregato quanto i rettili, quando le telecamere staccarono su di lui, sui suoi occhi un po' vitrei, sulla sua bocca spalancata. Si riprese di colpo nel vedere la sua immagine indiretta, e rivolse l'attenzione a un'impassibile dottoressa Goal. «Beh, capo stratega, inchiniamoci!» Heavensby Hall esplose in un'ovazione, ma Coriolanus non riusciva a distogliere gli occhi dalla dottoressa Goal. Cosa accadeva dietro quella facciata imperscrutabile? Attribuiva il comportamento dei serpenti al canto di Lucy Gray? O sospettava un gioco sporco? Anche se avesse saputo del fazzoletto, forse lo avrebbe perdonato, vista la teatralità del risultato. La dottoressa Goal si concesse un piccolo cenno della testa. «La ringrazio, ma oggi l'attenzione non deve essere su di me, deve essere su Gaius Brin. Magari i suoi amici potrebbero condividere con noi qualche ricordo». Nella Heavensby Hall, Lepidus entrò subito in azione, raccogliendo le testimonianze dei compagni di classe di Gaius. Era un bene che la dottoressa Goal lo avesse avvisato, perché se tutti avevano una battuta o una storiella buffa da condividere, solo Coriolanus riuscì a collegare l'eroica perdita, i serpenti e la punizione cui avevano assistito nell'arena. Non potremmo mai permettere che la morte di un giovane di Capitol City tanto brillante rimanga senza conseguenze. Quando uno di noi viene colpito, noi restituiamo il colpo due volte più forte, proprio come ha accennato la dottoressa Goal. Lepidus tentò di portare il discorso sull'eccezionale impresa di Lucy Gray con i serpenti, però Coriolanus si limitò a dire «è straordinaria». Ma la dottoressa Goal ha ragione. Questo momento appartiene a Gaius. «Teniamoci Lucy Gray per domani». Dopo una mezz'ora piena di commemorazione, Lepidus congedò dallo spettacolo Festus e io, visto che Coral e Cirque erano rimasti vittime del veleno. Coriolanus diede a Festus un abbraccio caloroso, stranamente commosso nel vedere il suo fidato amico abbandonare il palco. Era dispiaciuto anche di perdere io, perché aveva un atteggiamento che tendeva al distaccato più che al combattivo, ed era più di quanto potesse dire degli altri. Con l'eccezione di Persephone, forse, con la quale decise di trascorrere l'ora dedicata alla cena. Cannibali contro assassini. Tutti gli studenti tornarono a casa, lasciando il gruppetto dei mentori rimasti a un pasto a base di bistecche. Coriolanus diede un'occhiata ai suoi avversari. Essere arrivato tra gli ultimi cinque avrebbe dovuto farlo saltare di gioia. Se però avesse vinto uno degli altri, il decano Highbottom avrebbe potuto sì dargli un premio, ma volutamente non sufficiente a pagare la sua iscrizione all'università, magari motivando la scelta con la nota di demerito. Solo il premio Plint lo avrebbe davvero aiutato. Spostò l'attenzione sullo schermo, dove Lucy Gray continuava a canticchiare per i suoi animali. Tesli era sparita dietro la barricata e Mizen, Tricce e Mortifer mantenevano le loro posizioni elevate. Il cielo si riempì di nubi che preannunciavano un temporale e accendevano il tramonto di una luce sfolgorante. Il maltempo fece scendere anticipatamente il crepuscolo e Coriolanus non aveva ancora finito il dolce quando Lucy Gray svanì in lontananza e il brontolio profondo di un tuono scosse l'arena. Sperò che un lampo procurasse un po' di luce, ma il violento acquazzone che ne seguì rese impenetrabile l'oscurità. Coriolanus decise di dormire nella Heavensby Hall come gli altri mentori in gara. Nessuno, a parte Vipsania, aveva pensato di portare lenzuola e coperte. Perciò gli altri quattro si sistemarono sulle sedie imbottite, sollevando i piedi e usando gli zaini come cuscini improvvisati. Mentre la notte piovosa rinfrescava la sala, Coriolanus sonnecchiò sulla sedia con un occhio solo, l'altro semiaperto per cogliere qualunque segno di attività sullo schermo. Con il temporale che oscurava tutto, però, finì per assopirsi. Si svegliò di soprassalto verso l'alba e si guardò intorno. Vipsania, Urbanus e Persephone dormivano tranquilli. A qualche metro di distanza, invece, i grandi occhi scuri di Clemenzia scintillavano nella penumbra. Non voleva essere suo nemico. Se la fortezza degli Snow era sul punto di cadere, lui avrebbe avuto bisogno di amici. Fino all'incidente dei serpenti, aveva annoverato Clemenzia tra i migliori che aveva. E per di più era sempre andata d'accordo con Tigris. Come poteva farsi perdonare? Clemenzia teneva una mano sotto la camicetta e si toccava la clavicola che gli aveva mostrato in ospedale. Quella coperta di squame. Sono andate via? Sussurrò lui. Clemenzia si irrigidì. Stanno scomparendo, finalmente. Hanno detto che potrebbe volerci anche un anno. Fanno male. Era la prima volta che gli balenava quel pensiero. Non male. Tirano sulla pelle. Si sfregò le squame. È difficile da spiegare. Rincuorato da quella confidenza, si buttò. Mi dispiace, Clemmy. Sul serio. Per tutto quanto. Non sapevi cosa avesse in mente di fare, disse la ragazza. No, non lo sapevo. Ma dopo, in ospedale, avrei dovuto esserci per te. Avrei dovuto abbattere le porte per accertarmi che tu stessi bene, insistè Coriolanus. Sì, esclamò lei con forza. Però sembrava essersi un po' ammorbidita. Ma anche tu eri rimasto ferito, nell'arena. Ah, non trovarmi delle scuse. Alzò le mani, in segno di sconforto. Sono spregevole, e lo sappiamo tutti e due. Abbastanza. Un accenno di sorriso. Immagino che dovrei ringraziarti per avermi impedito di fare la figura della matta oggi. Davvero? Strizzò gli occhi come se cercasse di ricordare. A me viene in mente solo che mi sono aggrappato a te. Non proprio nascosto dietro di te, ma aggrappato a te, sì, e come. Lei rise per un istante, ma poi tornò seria. Non avrei dovuto dare tutta la colpa a te. Mi dispiace, ero terrorizzata. E per delle buone ragioni. Vorrei che oggi non fossi stata costretta a vedere quelle cose, disse. Forse è stato catartico. Per qualche motivo mi sento meglio. Confesso lei. Sono una persona orribile? No, rispose Coriolanus. Sei coraggiosa. Ecco cosa sei. E così, sia pur con qualche esitazione, la loro amicizia tornò a vivere. Lasciarono dormire gli altri mentre loro si dividevano l'ultima tortina al limone della scorta di Coriolanus, parlando del più e del meno e accarezzando persino l'idea di organizzare un'alleanza tra Lucy Gray e Mortifer nell'arena. Ma dal momento che la cosa sembrava fuori dal loro controllo, abbandonarono il progetto. Avrebbero deciso quei due se fare coppia oppure no. Noi perlomeno siamo di nuovo alleati, disse lui. Beh, in ogni caso non siamo nemici, concesse Clemenzia. Ma quando andarono a lavarsi la faccia e a sistemarsi per le telecamere, lei gli prestò il sapone perché non dovesse usare quell'intruglio abrasivo che c'era nei bagni. E per qualche ragione quel gesto, piccolo ma intimo, gli fece capire che lo aveva perdonato. Non venne offerta la colazione, però Festus arrivò presto per distribuire mele e panini con le uova all'insegna del cameratismo. Persefone gli rivolse un sorriso radioso da sopra la sua tazza di tè. Ora che Clemenzia si era un po' rilassata, Coriolanus non si sentiva più così minacciato dal gruppo dei mentori. Tutti volevano vincere, ma essenzialmente la vittoria era nelle mani dei loro tributi. Valutò i rivali di Lucy Gray. Tesli, piccola e intelligente. Mizen, letale ma ferito. Trich, atletico eppure ancora un'incognita. Mortifer, troppo stanco per descriverlo a parole. Le ultime nuvole rotolarono via al sorgere del sole. L'arena era disseminata di serpenti morti, stesi sulle macerie, a galla nelle pozzanghere. Annegati, forse, o incapaci di sopravvivere alla notte fredda e piovosa. Certe creature geneticamente modificate non se la passavano bene fuori dal laboratorio. Lucy Gray e Tesli non si vedevano da nessuna parte, ma i tre ragazzi, nei loro vestiti fradici, non si erano azzardati a scendere dalle vette che avevano conquistato. Mizen dormiva, il corpo legato alla traversa con la cintura. Mentre gli altri studenti entravano nella Heavensby Hall in fila indiana, Vipsani e Clemenzia, quasi fosse normale per loro, inviarono da mangiare ai rispettivi tributi. Quando arrivarono i droni, Trich divorò avidamente quello che aveva ricevuto, ma Mortifer rifiutò il cibo, scendendo nell'arena per prendere acqua da una pozzanghera con le mani. Indifferente a Trich e a Mizen, che alla fine si era svegliato, andò a raccogliere Coral e Sirk per aggiungerli alla fila dei morti. I ragazzi lo osservarono guardinghi, eppure nessuno dei due lo attaccò. Vuoi per il suo comportamento bizzarro? Vuoi per la possibilità di serpenti vaganti? Forse speravano che lo eliminasse qualcun altro, ma lui continuò a lavorare senza interruzioni, e quando ebbe riordinato il suo obitorio, tornò indisturbato alla cabina stampa. Mentre Trich sedeva sul bordo del tabellone segnapunti, dondolando i piedi, Mizen fece segno di voler mangiare. Persephone lo accontentò subito, ordinandogli un'abbondante colazione. Dopo un momento comparve Tesli. Il volto teso per la concentrazione portò fuori un drone che, per quanto molto simile al velivolo originale, sembrava leggermente modificato. La piccola si piazzò proprio sotto Mizen. «Pensa che quel coso volerà», chiese Vipsania con aria dubbiosa. «E anche se volasse, come farebbe a controllarlo?» Urbanus, che era rimasto a guardare accigliato lo schermo, d'un tratto si piegò in avanti sulla sedia. «Non dovrebbe… non dovrebbe controllarlo se… ma come ha…» La sua voce si spense mentre cercava di capire qualcosa. Tesli premette un interruttore, sollevò le braccia e lanciò in aria al drone. Il minuscolo aereo salì, rivelando un cavo che lo collegava a un cappio legato al polso della ragazzina. Così incatenato, il drone cominciò a volare in cerchio, più o meno a metà strada tra lei e Mizen. Il ragazzo abbassò lo sguardo, chiaramente perplesso, ma venne distratto dall'arrivo del primo drone mandatogli da Persefone. Il velivolo lasciò cadere un grosso pezzo di pane e fece per rientrare alla base come al solito. Poi, qualche metro più in là, invertì di colpo la rotta, puntando dritto su di lui. Mizen si piegò all'indietro, sorpreso. Distinto gli diede una manata, ma quello si limitò a passargli sopra, aprendo le tenaglie per consegnare un dono inesistente. Poi si fece di nuovo avanti. «Cosa ha quel drone che non va?» chiese Persefone. Nessuno lo sapeva, e in quel momento arrivò un secondo drone con l'acqua, seguito da un terzo con il formaggio. Anche quelli depositarono i loro pacchetti, però rimasero a gironzolare l'intorno, tentando ripetute consegne. Ma i piccoli apparecchi, che erano stati programmati per eseguire lanci senza complicazioni, cominciarono a scontrarsi tra di loro e di tanto in tanto a sbattere contro Mizen. Uno lo ferì a un occhio con la coda, facendolo gridare e sferrare colpi all'aria. «Ho la possibilità di contattare gli strateghi! Voglio dire, ho mandato altri tre droni!» esclamò Persefone. «Gli strateghi non possono farci niente», disse Urbanus, divertito. «La ragazzina ha trovato il modo di introdursi nel sistema di controllo dei droni. Ha bloccato il comando di rientro, perciò la faccia del tributo è la loro sola destinazione». Come previsto, quando gli altri tre droni arrivarono uno alla volta, mostrarono lo stesso problema. Mizen era il loro unico obiettivo, e ciò che all'inizio era parso buffo si rivelò mortale. Si alzò in piedi e tentò di scappare lungo la trave, ma i droni gli ronzavano intorno come mosche sul miele. Mizen aveva lasciato il tridente per terra, quindi estrasse il coltello e cercò di lottare contro i velivoli impazziti. Però il massimo che ottenne fu deviare per un momento la loro traiettoria. Non erano programmati per entrare in contatto con lui, ma, mentre rimbalzavano l'uno sull'altro e sulla lama del coltello, finirono per scontrarsi con Mizen, tanto da dare l'impressione di attaccarlo. Il ragazzo cominciò a farsi strada brancolando verso un palo, lo stesso sul quale aveva abbandonato Tesli al suo destino in balia dei serpenti, ma il ginocchio sembrava non voler collaborare. Ormai stravolto, tirò un pugno violento verso i droni, mettendo tutto il peso sulla gamba ferita, che prima vacillò e poi cedette. Perse l'equilibrio e precipitò al suolo, spezzandosi il collo nell'impatto. «Oh!» esclamò Persephone quando Mizen finì in terra. «Oh, l'ha ucciso!» Vipsania guardò accigliata lo schermo. «È più furba di quello che sembra!» Tesli fece un sorriso soddisfatto e recuperò il suo drone, spegnendolo e abbracciandolo con affetto. Mai giudicare un libro dalla copertina! Urbanus ridacchiava, mentre selezionava qualche dono sul suo bracciale comunicatore. Soprattutto se appartiene a me. La sua esultanza fu di breve durata, però. Nel mostrare l'incidente dei droni, gli strateghi avevano trascurato la visione d'insieme. Trich era sceso dal tabellone segnapunti, aveva attraversato le tribune e si era lasciato cadere nell'arena. Parve quindi sbucare dal nulla, quando in un colpo solo piombò nell'inquadratura con un balzo e calò la sua scura e su Tesli. La piccola mosse solo un passo prima che la lama la colpisse al cranio, spaccandoglielo in due e uccidendola all'istante. Con il respiro affannoso per la fatica, Trich appoggiò le mani alle ginocchia e poi si sedette per terra proprio vicino a Tesli, osservando il sangue che colava nella sabbia. L'arrivo dei droni, con una pioggia di cibo per lei, lo fece entrare in azione un'altra volta. Raccolse una decina di pacchi e pacchetti, quindi si ritirò dietro la barricata. Urbanus mascherò di disgusto il suo attimo di incredulità e si alzò per andarsene. Non fu in grado di sfuggire all'immancabile microfono di Lepidus, però, e solo a fatica riuscì a non ringhiare quando disse «Per me finisce qui». Divertente, vero? Poi si allontanò, lasciando Persephone a esprimere i suoi rimpianti e la sua gratitudine per l'opportunità di essere stata un mentore. «Sei arrivata nei primi cinque», le disse Lepidus con un sorriso radioso. «E questo nessuno potrà mai togliertelo». «No», confermò lei con aria un po' dubbiosa. «No, è il genere di cosa che rimane». Coriolanus guardò prima Clemenzia e poi Vipsania. «Direi che ci siamo solo noi». I tre allinearono le loro sedie con Coriolanus al centro, mentre altri portavano via quelle degli sconfitti. Lucy Gray, Trich, Mortifer. Ultimi tre. Ultima ragazza. Forse anche ultimo giorno. Laki comparve in studio indossando un cappello con cinque stelline che emettevano scintille. «Ciao, Panem! Mi ero fatto confezionare questo cappello apposta per gli ultimi cinque, che hanno già fatto fuoco e fiamme». Tolse due stelline dal cappello e se le gettò alle spalle senza guardare. «C'è qualcuno degli ultimi tre là fuori?». Una delle stelline si smorzò sul pavimento, ma la seconda affumicò una tenda, suscitando un gridolino acuto e un frenetico gioco di piedi da parte di Laki. Sullo schermo apparve un componente della troupe che correva a gestire la crisi armato di estintore. L'intermezzo permise a Laki di ricomporsi. Mentre le tre stelline rimaste sul suo cappello si spegnevano, il numero degli sponsor e dei giocatori cominciò a lampeggiare sul fondo dello schermo. «Yuhuu! Ci stanno proprio dando dentro con le scommesse! Non perdetevi il divertimento!». Il bracciale comunicatore di Coriolanus tintinnava generosamente, ma era lo stesso per quelli di Vipsania e Clemencia. «Certo che non mi servirà molto», mormorò quest'ultima Coriolanus. «Mortifer non si fida abbastanza di me per mangiare quello che gli mando». Lucy Gray doveva essere affamata, ma lui dava per scontato che stesse riposando nei tunnel. Avrebbe voluto inviarle cibo e acqua, sia come sostentamento, sia come veicolo per il veleno. Dal momento che i suoi ultimi due avversari potevano sopraffarla con facilità, lui doveva fare qualcosa perché la fortuna volgesse a suo favore. Per ora riusciva a pensare solo a mantenere il pubblico dalla sua parte. Quando Lepidus gli si avvicinò per parlare di Lucy Gray, Coriolanus calcò la mano. Non sapeva proprio cos'altro ci volesse per dimostrare agli spettatori che lei non era una dei distretti, se ancora non era riuscita a convincerli. Penso che possa aver subito una grande ingiustizia a essere stata compresa non solo nella mietitura, ma addirittura nel distretto 12. Sarà la gente stessa a doverlo giudicare. Se siete d'accordo con me, o avete anche solo il dubbio che io possa avere ragione, sapete cosa fare. Sul suo bracciale si riversò una nuova bordata di donazioni, ma Coriolanus non vedeva come tutto quel cibo sarebbe stato d'aiuto. Avrebbe potuto sfamare Lucy Gray per settimane con quello che aveva già. Intanto, l'unico tributo che si spostava per l'arena era Mortifer, sceso dalla cabina stampa per tagliare un'altra larga striscia di bandiera lungo la strada. Emaciato e malfermo sulle gambe, si avvicinò barcollando a Tesli e Mizzen, li aggiunse alla sua collezione e usò il nuovo pezzo di bandiera per coprirli. Con un grosso sforzo si arrampicò fino all'ultima fila dell'arena, dove si mise a sonnecchiare al sole, cullandosi piano avanti e indietro, il mantello steso ad asciugare. Coriolanus si chiese se non sarebbe morto di lì a poco per cause naturali. Sempre che morire di fame fosse una causa naturale. Non ne era del tutto sicuro. Era naturale se la fame veniva usata come arma? Coriolanus fu rincuorato quando la vide apparire appena prima di mezzogiorno nell'ombra di un tunnel. Lucy Gray esaminò l'arena e, giudicandola sicura, uscì sotto il sole. Il fango sull'orlo della sua gonna a balze aveva cominciato a solidificarsi, ma il vestito umido le stava ancora appiccicato addosso. Mentre Coriolanus le ordinava un banchetto sul bracciale comunicatore, Lucy Gray arrivò fino alla pozzanghera di Mortifer e si inginocchiò. Raccolse acqua con le mani per placare la sete e per lavarsi il viso. Dopo essersi pettinate i capelli con le dita, li attorcigliò in un nodo lento, finendo proprio mentre una decina di droni faceva il suo ingresso nell'arena. Lei parve quasi non accorgersene, perché tirò fuori una bottiglia dalla tasca e ne immerse il collo nella pozzanghera, raccogliendo un paio di centimetri d'acqua. Dopo aver sciacquato l'interno, svuotò la bottiglia e stava per riempirla di nuovo quando i droni attirarono la sua attenzione. Mentre cibo e acqua cominciavano a caderle intorno, gettò via la bottiglia vecchia e raccolse i suoi doni nella gonna. Fece per avviarsi verso il tunnel più vicino, ma poi alzò gli occhi e vide Mortifer allungato sulle tribune. Cambiò direzione, corse all'obitorio del ragazzo e sollevò i brandelli di stoffa della bandiera. Le sue labbra si mossero mentre contava i morti. Sta cercando di capire chi è rimasto in gioco, disse Coriolanus al microfono che Lepidus gli aveva cacciato sotto il naso. Magari dovremmo indicarlo sul tabellone segnapunti, scherzò Lepidus. Sono certo che i tributi lo troverebbero utile, ribatté Coriolanus. Sul serio? È un'ottima idea. D'un tratto, la testa di Lucy Gray scattò verso l'alto e le provviste che aveva nella gonna caddero a terra, mentre faceva dietro front e si metteva a correre. Aveva sentito quello che il pubblico non poteva sentire. Trich, uscito da dietro la barricata con la scura in pugno, la colpì al polso. Lucy Gray cadde in ginocchio. No! Coriolanus balzò in piedi, spingendo Lepidus da una parte. Lucy Gray! A quel punto accaddero due cose allo stesso tempo. Mentre Trich calava la sua scure, lei si lanciò tra le sue braccia e si aggrappò a lui, evitando la lama. Sembrò quasi strano a vedersi che si abbracciassero per un lungo istante, finché Trich non sbarrò gli occhi, inorridito. La spinse via, lasciò la scure e si strappò qualcosa dalla nuca. Fece scattare una mano in aria, le dita strette intorno al serpente fucsia. Poi crollò in ginocchio e lo sbatté contro il terreno, ancora e ancora, fino al momento in cui ricadde morto nella polvere. Il serpente senza vita ancora nel pugno. Ansimante Lucy Gray si voltò di scatto per localizzare Mortifer, ma lui si dondolava ancora sulle tribune. Al sicuro per un attimo, la ragazza si premette una mano sul cuore e salutò il pubblico. Mentre gli spettatori nella sala applaudivano, Coriolanus lasciò uscire il fiato con un sospiro e si girò per ringraziare. Lei ce l'aveva fatta. Lui ce l'aveva fatta. Con le tasche piene di veleno, Lucy Gray era riuscita a rimanere tra gli ultimi due in gara. Doveva aver nascosto in tasca il serpente rosa, proprio come aveva fatto con quello verde durante la mietitura. Ce n'erano altri. Otrich aveva fatto fuori l'ultimo sopravvissuto. Impossibile dirlo, ma la sola eventualità che Lucy Gray potesse usare un altro rettile come arma la faceva apparire letale. Mentre Lepidus accompagnava fuori dalla sala Vipsania, che ringraziò gli strateghi a denti stretti, Coriolanus sprofondò sulla sedia e restò a guardare Lucy Gray che recuperava il suo banchetto. Si sporse verso Clemenzia e sussurrò. Sono contento che si tratti di noi. Lei gli rispose con un sorriso complice. Lucy Gray lisciava gli incarti e disponeva in modo esteticamente gradevole tutto il suo cibo e Coriolanus ripensò al loro picnic allo zoo. Lo stava rimettendo in scena apposta per lui. Una stretta al cuore e il ricordo del bacio lo colpì. Ce ne sarebbero stati altri nel suo futuro. Per un attimo si lasciò trasportare da un sogno a occhi aperti, in cui Lucy Gray vinceva i giochi, lasciava l'arena e andava a vivere con lui nell'attico degli snow, che in qualche modo si era salvato dalle tasse. Lui avrebbe frequentato l'università grazie al premio Plint e lei sarebbe stata l'attrazione principale del locale appena riaperto di Pluribus, perché Capitol City avrebbe accettato di farla restare e... beh, non aveva ancora elaborato tutti i dettagli, ma il punto era che lui avrebbe ottenuto di tenerla con sé. Voleva tenerla, al sicuro e a portata di mano, venerata e venerante, devota e interamente inequivocabilmente sua. Se le parole che gli aveva rivolto subito prima di baciarlo, adesso l'unico ragazzo che ha un posticino nel mio cuore sei tu. Erano vere. Non lo avrebbe voluto anche lei. Smettila, si disse. Nessuno ha ancora vinto niente. Nel frattempo Lucy Gray aveva spolverato quasi tutto il suo cibo. Così Coriolanus ne ordinò altro e in abbondanza, in modo che potesse metterlo da parte e le bastasse per i giorni successivi, nel caso avesse deciso di restare nascosta ad aspettare che Mortifer morisse. Era un buon piano, a basso rischio, ed era anche sicuro se lui avesse continuato a rifiutare qualsiasi rifornimento. Ma se non l'avesse fatto? Se fosse tornato in sé e avesse deciso di approfittare dei quasi illimitati doni degli sponsor che Clemenzia poteva fornirgli, allora tutto si sarebbe ridotto di nuovo a un confronto fisico e Lucy Gray sarebbe stata in grande svantaggio, a meno che non disponesse di altri serpenti. Quando i droni ebbero consegnato le provviste, Lucy Gray le suddivise e le stivò nelle tasche. Non gli era sembrato che fossero grandi abbastanza per contenere tutta quella roba da mangiare e da bere, oltre magari a un altro serpente, ma lei era terribilmente in gamba. Non l'aveva nemmeno vista tirare fuori quello che aveva ucciso Trich. Festus portò a Coriolanus e Clemenzia dei panini, ma erano entrambi troppo nervosi per mangiare. Gli altri studenti pranzarono seduti ai loro posti per non perdersi neppure un istante. Coriolanus sentiva discussioni sussurrate ma accese a proposito di chi l'avrebbe spuntata. Non ricordava che alla gente fosse interessato in passato. Il sole battente cominciò ad asciugare l'arena, assorbendo le pozzanghere poco profonde e lasciandone solo alcune abbastanza ampie da poterci bere. Lucy Gray si riposò su un piccolo cumulo di macerie, la gonna allargata per catturare il calore. Quel momento di calma riportò sullo schermo Lucky, che fece dettagliate previsioni meteo, con tanto di allerta caldo e consigli per evitare i relativi crampi, spossatezza e collassi. Davanti al chiosco della limonata, fuori dall'arena, c'era una fila lunghissima e la gente si nascondeva sotto gli ombrelloni o si accalcava dentro preziose chiazze d'ombra. Persino l'affidabile frescura della Heavensby Hall era venuta meno, tanto che gli studenti si toglievano le giacche e si sventolavano con i quaderni. Verso metà pomeriggio la scuola aveva offerto un punch alla frutta, dando all'evento un'atmosfera festosa. Lucy Gray non perdeva di vista Mortifer, ma lui non aveva mosso un muscolo per affrontarla. D'un tratto la ragazza si alzò, come se fosse impaziente di chiudere la partita, e ripercorse i propri passi fino al corpo di Tritch. Prendendolo per una caviglia, cominciò a trascinarlo verso l'obitorio di Mortifer, il quale parve svegliarsi nell'attimo stesso in cui lei toccò il cadavere. Si sporse e urlò qualcosa di incomprensibile, poi si affrettò a scendere dalle tribune. Lucy Gray lasciò andare Tritch e corse verso un tunnel lì vicino. Mortifer si occupò di trasportare Tritch, metterlo ordinatamente in fila con gli altri tributi morti e coprirlo con ciò che restava della bandiera. Soddisfatto, si avviò di nuovo verso le tribune, ma aveva appena raggiunto il muro quando Lucy Gray spuntò da un secondo tunnel, tolse dai corpi uno dei lembi di bandiera e lanciò un grido. Mortifer si voltò di scatto e corse nella sua direzione. Lei non perse tempo e sparì dietro la barricata. Mortifer risistemò la bandiera, rincalzando il tessuto sotto i corpi per tenerlo più fermo, e se ne andò a riposare contro un palo. Dopo qualche minuto sembrò assopirsi, gli occhi chiusi contro il sole. Lucy Gray schizzò fuori un'altra volta, strappò uno dei pezzi di bandiera e stavolta corse via trascinandoselo dietro. Nel tempo necessario a Mortifer per rendersi conto della sua azione di disturbo, Lucy Gray aveva già messo tra loro una quarantina di metri. L'indecisione del ragazzo le permise di aumentare il vantaggio e di trascinare la bandiera al centro esatto dell'arena, dove la abbandonò per dirigersi verso le tribune. Ormai furioso, Mortifer arrivò di corsa e si riprese la bandiera. Fece qualche passo per inseguirla, ma lo sforzo lo aveva messo a dura prova. Si premette le mani sulle tempie, ansimando affaticato, anche se non pareva sudare. Come aveva ricordato a tutti l'ultimo aggiornamento di Lucky, quello poteva essere sintomo di un colpo di calore. «Sta cercando di farlo correre fino alla morte», pensò Coriolanus. «E potrebbe funzionare davvero». Mortifer barcollò un po' come se fosse ubriaco. Tirandosi dietro la bandiera, si avviò verso la sua pozzanghera, una delle poche che non si erano prosciugate nel corso del pomeriggio. Si lasciò cadere in ginocchio e beve a grandi sorsi rumorosi, finché sul fondo non rimase che un po' di liquido fangoso. Mentre si sedeva sui talloni, una strana espressione gli attraversò il viso e con le dita prese a tormentarsi le costole e il petto. Vomitò una parte dell'acqua, poi rimase carponi per qualche istante in preda ai conati, prima di rialzarsi incerto sulle gambe. Stringendo ancora la bandiera in una mano, si avviò di nuovo con passi lenti e irregolari verso il suo obitorio. Fece appena in tempo a raggiungerlo quando crollò a terra e si trascinò in una fila perfetta vicino a Trich. Con una mano tentò di tirare la bandiera sopra il gruppo dei suoi compagni, ma riuscì solo a coprire se stesso, e solo in parte, prima di rannicchiarsi e rimanere immobile. Curiolanus era pietrificato nell'attesa. Era finita, aveva davvero vinto lui, Younger Games, il premio Plint, la ragazza. Studiò al viso di Lucy Gray mentre osservava Mortifer dalle tribune, ma lo sguardo di lei sembrava distante, come se fosse lontanissima dall'azione nell'arena. Il pubblico nella sala cominciò a mormorare. Il ragazzo era morto? Non avrebbero dovuto proclamare un vincitore? Coriolanus e Clemenzia allontanarono con un cenno della mano Lepidus e il suo microfono mentre attendevano l'epilogo. Passò mezz'ora prima che Lucy Gray scendesse dalle tribune e si avvicinasse a Mortifer. Gli mise le dita sul collo per controllare i suoi battiti. Soddisfatta, chiuse gli occhi e sistemò teneramente la bandiera sopra i tributi, come se mettesse a letto dei bambini. Poi attraversò l'arena e si sedette a terra, appoggiata a un palo. In attesa. Questo sembrò convincere gli strateghi, perché sullo schermo apparve Lucky che saltava su e giù e annunciava che Lucy Gray Bird, tributo del distretto 12, e il suo mentore, Coriolanus Snow, avevano vinto i decimi Younger Games. Heavens Be All esplose intorno a Coriolanus e Festus coordinò alcuni compagni per sollevare la sua sedia e farlo sfilare tutto intorno al palco. Quando finalmente lo misero giù, Lepidus lo assillò con domande alle quali poté solo rispondere che l'esperienza lo aveva esaltato e ridimensionato al tempo stesso. Poi tutti gli studenti furono indirizzati verso la mensa, dove erano stati imbanditi tavoli di dolci e posca per i festeggiamenti. Coriolanus sedette al posto d'onore, a ricevere congratulazioni e a ingollare più posca di quanta potesse reggerne. E allora, in quel momento, si sentiva invincibile. Satiria arrivò in suo soccorso, proprio quando Coriolanus cominciava a sentirsi girare la testa. Lo accompagnò fuori dalla mensa e lo spedì al laboratorio di biologia avanzata. «Credo che stiano portando qui la tua ragazza. Non sorprenderti se vi riprenderanno insieme. Ben fatto!» Coriolanus l'abbracciò d'impulso e si affrettò a dirigersi al laboratorio, felice per quel momento di calma. Sentiva le labbra allargarsi in un ghigno folle. Aveva vinto. Aveva vinto la gloria e un futuro. E forse anche l'amore. Da un istante all'altro avrebbe avuto Lucy Gray tra le braccia. «Oh, gli Snow si posano in cima, non c'è dubbio!» Obbligò le sue guance a distendersi mentre giungeva alla porta. E si sistemò la giacca per dare un contegno al disastro al ticcio che era in realtà. Per svariati motivi non era il caso che la dottoressa Goal lo vedesse in quello stato. Quando aprì la porta del laboratorio di biologia avanzata, trovò solo il decano High Bottom, seduto al suo solito posto dietro la cattedra. «Cchiudi la porta!» Coriolanus lo assecondò. Forse il decano voleva congratularsi con lui in privato, o addirittura scusarsi per averlo offeso. Un astro in declino avrebbe potuto avere bisogno di un astro nascente un giorno. Ma quando si avvicinò al decano, fu invaso da un terrore gelido. Proprio lì, sistemati sul ripiano come campioni di laboratorio, c'erano tre oggetti. Un tovagliolo dell'Accademia macchiato di ponce all'uva, il porta cipria d'argento di sua madre e un sudicio fazzoletto bianco. L'incontro durò non più di dieci minuti. Dopo, come concordato, Coriolanus andò direttamente al centro di reclutamento, per diventare il più recente, se non il più notevole, dei pacificatori di Panem.